Per incrementare in tempi rapidi il personale sanitario impegnato a fronteggiare la seconda ondata dell'epidemia di covid, il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha emanato una nuova ordinanza che semplifica le procedure per le assunzioni di qualunque tipologia nel sistema sanitario regionale. L'ordinanza prevede che per le assunzioni a tempo indeterminato sarà possibile attingere dalle graduatorie in vigore e con procedura di emergenza, compreso il doppio scorrimento di tutti gli idonei, garantendo agli aventi diritto il massimo di possibilità di scelta tra le sedi di destinazione. Anche per le assunzioni a tempo determinato verranno prese decisioni analoghe. In entrambi i casi l'obiettivo è quello di garantire l'ingresso in servizio entro una settimana dalla chiamata del personale contattato. Anche per questo saranno emessi bandi sempre aperti con aggiornamento periodico delle graduatorie. Saranno attivate in emergenza anche selezioni a tempo determinato di personale per esigenze direttamente connesse all'epidemia di covid. Per tutto il periodo della pandemia sarà limitata la mobilità del personale fra aziende sanitarie diverse o all'interno della stessa azienda.